Eccoci ragazzi, bentornati con questo 11 di miei video cominciato, il nome del Venorio, in episodio numero 11, ringrazio Anime Sub Ita che mi ha fornito l'episodio, lo trovate su YouTube Anime Sub Ita, che a volte è molto più veloce di Rikix e della sua cricca. Allora, un episodio veramente molto bello, forse per me il più bello della stagione, in generale potrebbe essere uno dei primi tre più belli, sicuri. Per me però è il più bello, un misto di terrore, ansia, paura e bastardaggine, queste sono le parole chiave di questo episodio e anche un po' di nostalgia, perché finalmente scopriamo quello che è passato di Ichioshi, proprio in tutti i sensi, mancano ancora qualche piccola cosa, soprattutto inerente al passato quando è un po' più giovane, quando è un po' più adolescente, ma quando è bambino riusciamo a capire tante belle cose, belle e brutte purtroppo. Ichioshi è un ragazzo che è molto forte, tatticamente, io infatti me lo immagino che sia molto bravo, e quando era bambino, voglio dire ragazzo, riusciva a fare anche tanti gol, era un po' capoconiale della squadra, lo si poteva definire un po' come Judo, no Zaka, secondo me, perché non è attaccante ma centrocampista avanzato, per quanto io ne voglia ipotizzare. E piccoli frame ricordano anche quello che è il rapporto fra Ichioshi e Ikaru, ovvero il fratello minore. Un rapporto che è ben consolidato, soprattutto dal fatto che Ikaru adora il calcio, Ichioshi è un bravissimo calciatore, quindi Ikaru va a vederlo durante le partite. Se non che capiamo, è sicuramente il momento in cui il papà viene a mancare. Vi ricordate il famoso, spettacolare, se non tragico, incidente di cui si parla tra Ichioshi, il papà e suo fratello? Ecco, nella partita in cui per la prima volta va a venire pure il papà a vedere Ichioshi, accade questo prossimo incidente, che mi viene a pensare forse che è stato un po' anche manovrato. Chissà, magari Orion al tempo già voleva Ichioshi dalla sua, purtroppo di Orion si poteva ancora ben poco e quindi non possiamo ipotizzare troppo, però può essere un'ipotesi. Abbiamo dunque il papà purtroppo morto sul colpo e Ikaru, il fratellino, che rimarrà in coma e che rimarrà su un lettino fino ad ora. Purtroppo questo è un tragico ricordo di Ichioshi che lo porta a sognare molto spesso, anzi fare incubi su questa situazione, che quindi ci fa capire quanto lui in realtà soffra di questa cosa. E finalmente scopriamo dunque a tutti gli effetti il perché Ichioshi agisce contro Inazuma Giapa, non perché è scemo, perché è stupido, ma perché ha una grande motivazione che però così affrontata risulta essere un nemico, ovviamente. Nosaka, secondo me in questo momento, è il leader della squadra, è il giù della situazione e anche secondo me il più importante di Mark che ha dovuto messi assieme, è il capitano. Se non fisico, perché magari è Mark ancora il capitano o piuttosto le Asuto, sicuramente è un capitano morale. Grazie a lui vediamo anche molte scene in cui la tensione sembra essere svanita, c'è un'area di spensieratezza, di felicità, di essere squadra, di essere uniti, anche se Ichioshi mette basso nelle ruote. Questa è una bellissima situazione di come Ichioshi non riesca a essere veramente formidabile, di come fondamentalmente Inazuma Eleven Orion con Ares riescono ad essere delle serie veramente molto particolari per le tattiche e tecniche, diciamo, di allenamento e poi attuate pure in campo. Questo è un aggeggio che, come vedete, è composto da due travi di legno molto grosse e spesse, con al centro un buco, orizzontale e parallele, in cui possiamo vedere che fuori escono dei piedi. Questo è un simulatore che permette a loro di scavalcare eventuali scivolate di avversari, perché come dice Nosaka ci sottoporremo a un allenamento contro il gioco sporco, perché durante questa partita abbiamo visto sempre giocare sporco gli avversari in Inazuma Japan. È un allenamento veramente bello e ovviamente ci prova anche Gojin, ma Gojin non sembra essere ancora tanto in grado di gestire il suo corpo, il suo movimento. Anche se ragazzi, l'ho sempre detto, come dicono forse anche loro in maniera celata, Gojin entrerà in campo solamente quando realmente servirà. Non entrerà a caso, ma solo quando servirà realmente. Piccole gag che fanno comunque capire che c'è area di spensieratezza e area di felicità. Insomma, c'è del sorriso in Inazuma Japan, io vedo una squadra molto unita. Quello che non mi torna è una cosnerenta a Mark Evans, che però dirò a fine video commento. Ed ecco dunque, i Chiyoshi, che riesce a capire chi sono i compagni di Nosaka nell'attuare un piano per riuscire a vincere contro l'Arabia Saudita, ovvero la partita che avranno in queste ultime, penso. Non so se sarà l'ultima o la penultima, perché ormai dovremmo essere gli sgoccioli delle qualificazioni del Football Frontier International. Una piccola scena anche qua, divertente, che fa vedere come quanto Golem, più di altri, ma come anche Asuto e Gojin, mangiano tantissimo e come Mansakue, come si chiama quelli dei capelli azzurri, Hiro, Hiro, no, non è Hiroto, oddio. Vabbè, non me lo ricordo, ma perché viene detto, viene detto pochissime volte. Comunque, il ragazzo dei capelli azzurri con un lapsus, non mi ricordo, mangiano poco. Questa situazione apre a un altro scenario, ovvero che manca i Shihoshi. I Shihoshi manca e dov'è a parlare via tablet, perché ormai la tecnologia è arrivata anche via tablet a parlare, tramite Skype o cose varie, di come dovrebbe agire i Shihoshi nella prossima partita. E da qui, ragazzi, mi è arrivata una sensazione di terrore, di paura, di ansia che mai avevo provato fino ad oggi, ovvero nella Doom Eleven, ovviamente. Questo magico pulsante avrebbe dovuto, se schiacciato nel momento giusto, eliminare la squadra nella Doom Japan senza gravi conseguenze, senza nessun morto o ferito gravemente, ma in particolare renderli, in pratica, sospesi, renderli impossibilitati ad arrivare alla partita contro la Rebbe Saudita. E questo è una cosa bruttissima. A me per 5 minuti mi è rimasto un blocco nella gola, pazzesco, una cosa così non si era mai vista nella Doom Eleven. Che addirittura il sabotaggio arrivasse proprio a eliminare fisicamente gli avversari, o comunque chi mette basso nelle ruote al nemico. È un personaggio comunque molto losco, sicuramente molto più cattivo di Ray Dark, molto più cattivo di tutti gli altri nemici che abbiamo visto. Secondo me più cattivo anche nel quinto settore, perché poi stiamo parlando di eliminare a tutti i costi chi cerca di metterci basso nelle ruote. A questo punto di Ciosci per quanto sia cattivo, per quanto sia severo e per quanto lo faccia per la motivazione, che ovviamente Orion gli ha promesso che il fratello possa dimettersi e che possa essere curato, lui rimane un po' così spiazzato, non so se farlo o meno, ci sono un sacco di... E questo è il minutaggio in cui ho più terrore, perché non capisce se ha senso schiacciarlo, quali siano le conseguenze, cosa è meglio fare. Se non che, se non che, Gojin e Asuto parlottano molto con i Ciosci, perché lo vedono palido, lo vedono che sta soffrendo, si vede che ha un colorito diverso dal resto. Gojin accidentalmente preme sul bottone con il piede, che sempre accidentalmente Ciosci ha fatto cadere, ma colpo di scena, questo pulsante non attiva quello che avrebbe dovuto fare, ovvero mi spiego. Il pulsante avrebbe dovuto far folare le gomme, in modo che il pulminio della sua giappa andasse a deragliare e uscisse di strada. Ma questo pulsante, non si sa bene ancora come, anche se è un sospetto, e il sospetto è Nosaka, permette semplicemente di alzare il volume in maniera sospositata da 1 a 100 di Aizaki, dandogli fastidio. Il problema è che, infatti, come vediamo qua, forse non si vede molto perché c'è la mia faccia, ma i Ciosci cercano di capire perché, scusate, ma se apriamo il pulsante anche Gojin non capisce, come mai si alza la musica di Aizaki, che cos'è? E questa scena, che probabilmente la metterò come immagine di copertina, fa capire molto quelli che sono i predict di Nosaka, quanto è veramente intuitivo. La differenza tra Jude e Nosaka è proprio questa, Jude è più istintivo, Nosaka ragiona. Per quanto Jude è animato da una forza di rivalse, di giustizia, Nosaka sa attuare i piani di nascosto, in silenzio, senza farsi vedere e con astuzia. Non che Jude non ce l'abbia, però rischia di essere un po' troppo impulsivo Jude. A questo punto Ciosci cerca di capire, ma io l'ho provato, l'ho schiacciato, ma non accade niente, ma non volevo sentire motivazioni. Il fratello di Ciosci rischia gravemente di non riuscire a essere curato, se Ciosci non butta fuori Natuma Japan in questa partita. Ecco l'Arabia Saudita, una squadra di cui non sappiamo nulla, se non così a impatto, abbastanza agili. I allenatori sono molto strani, io non capisco se probabilmente è una donna, ma quello a fianco al signore, quindi quello con i capelli lunghi, mi viene a pensare che sia anche un mezzo trans. Ma vabbè, diciamo che in Azuma Eleven si è sempre sbizzarrito per proporre dei character design pazzeschi e fuori dal normale. Continuiamo a vedere questa bambina che ricorda Camellia insieme a quello che possesse suo papà adottivo. Non si sa ancora niente, però io mi chiedo, ma questa bambina qua, come ci arriva allo stadio da sola ogni volta che avrà 4 anni, 5? Non lo so, magari ne dimostra pochi, ma in realtà ne ha 10, 11, non lo so. Sta di fatto che prima o poi lo scopriremo, è una di quegli intrecci, diciamo, secondari della storia. Ichi Oshii prova ad aiutare quelli che sono gli avversari, dicendo che i giocatori di chiave di Nosaka sono Kasemaru e Fubuki, ovvero Nathan e Shoun, che è la verità. Anche se in un primo momento sembrerebbe che Nathan, così come tutti, riescano, grazie al metodo di allenamento di Nosaka e di Chukinune, a deviare questo problema, il nemico appunto, che cerca di ostruirli. Se non che però ritorna quello che è il magico riflesso che permette ai giocatori avversari di Natsuma Japan di non vedere, di rimanere accecati, e Nathan si becca una bella ginocchiata nella caviglia, quindi non fa cosa di molto male. A questo punto Nathan esce, entra Golem. Lo sottolineo perché io secondo me, e spero vivamente, non sarà questa la partita purtroppo, ma spero che durante la partita, non in questo episodio, ma in generale, sarà questo l'episodio per cui Golem impara una nuova tecnica. Sarebbe l'ora, Golem, vegliati. Eccolo, il famoso magico riflesso che non colpirà solo Nathan, ma anche Shawn, a riprova del fatto che, dunque, i ragazzi della roba suddita hanno creduto nelle parole di Shioshi, anche se Shioshi ormai è poco credibile, perché Shioshi avrebbe dovuto mandare fuori in Natsuma Japan già tre volte fa, e siamo arrivati a questa partita, quando ancora Shioshi non ha fatto nulla, diciamo, in maniera pratica sul campo. Entrerà Mansaku al posto di Shawn, e quindi Nosaka ha perso. Anche se non l'ho visto troppo preoccupato, le pedine fondamentali per il suo piano, tutto tra virgolette, perché ancora non so cosa voglia dire, non l'ho visto manco mai provare, non si è visto nulla. Shawn e Nathan, dunque, sono fuori dal gioco. Entrano Mansaku e Golem. Io qui ho sperato con tutto il cuore, infatti lo dico, può essere questa la partita, ma non questo l'episodio, che Golem facesse la sua nuova tecnica. E invece no, un semplice e classico muro di roccia. Va bene lo stesso, riesce comunque a prendere la palla. A questo punto, plot twist, ribaltone definitivo, Aizaki insieme a Hiroto, fanno la loro classica mossa a pinguini demoniaci, e riescono a segnare 1-0, e qui è il portiere a rimetterci la forma fisica. Questa è una bella immagine che fa capire come Shioshi ormai sia abbandonato a se stesso, non riesce più a capire se il nemico è Orion o il nemico è Asuma Japan. E io mi farei due domande qua. Anche se mi rendo conto che essere sotto ricatto è una brutta sensazione che non augura nessuno. Io mai l'ho provata in questi termini, ma vi giuro che è una brutta sensazione essere ricattati, anche nelle piccole cose, e questo è un po' il messaggio che voglio far trasparire, e quindi si va un po' contro quella che è la moralità, perché io non penso che Shioshi sia cattivo. Nessuno l'ha mai pensato, Mark in primo. Però questo strateggiamento deve un po' metterlo di fronte a delle dure e difficili scelte. Passiamo ai commenti. Nello scorso episodio io ho un po' accentuato il fatto che, chissà quando metteranno i tre più votati, che ipotizziamo possano essere Jordan, Shiratoianai e Aiden, così non avventa caso, anche se c'è un po' del vero in questo, quando potrebbero essere stati messi. Secondo Fabrizio di Gesù, sembrerebbe che, secondo lui, potrebbero essere stati messi durante la trama, senza un'identità, e poi quindi potrebbero risultare dei procedimenti fondamentali, anche se io mi ricordo, non so dove l'ho letto, che non avranno un ruolo specifico nella trama. Perché secondo me, ipotizziamo quindi questi tre che entrano, perché entrano a posto di Axel, Jude e Mark, attenzione, per quello che voglio dirvi una cosa, perché l'avete visto pure in panchina, e in porta, ma anche io non ho tornato, ne parliamo fra poco. Però, al posto di chi, non possono fare una panchina chilometrica di 25 giocatori, quindi va anche capito un po' come gestirla, io continuo a ripetere che secondo me, li vedremo come supporter, e magari uno ogni tanto in panchina, e che aiutino a Duma Japan, a meno che succeda qualcosa che ancora non possiamo prevedere. Cronus 99, fa un po' da portavoce, di quelli che sono i commenti su questa storia di Chiyoshi, che ricorda molto Victor e Vladimir, sicuramente, a livello, diciamo, mentale, può ricordare, però, a livello di dinamiche, qui siamo arrivati a un livello mai visto, ricatto, bastardaggine, terrore, cioè, io da spettatore, ho paura di quello che accade, perché Chiyoshi è capace veramente di fare qualsiasi cosa, e quindi sono molto combattuto, io la trovo anche più bella della storia, perché, comunque, non c'è di mezzo, principalmente, anche la, il fisico dei giocatori, i giocatori, il vichettore Vladimir, sì, era di mezzo, ma a livello morale, qui proprio si rischia di fare del male ai giocatori, non si era mai visto una cosa del genere. Brangel D'Angel, dice un qualcosa che, conferma quello che vuole dire Fabrizio, in questo commento, e se l'anima di Orion fosse un work in progress, potrebbe anche essere, voglio rispondere anche a te, perché tu hai fatto un bel ragionamento, che potete reagire tranquillamente qua, però, voglio, ritengo di no, cioè, per meglio dire, è un work in progress, perché ovviamente i giocatori avranno un ruolo, i classici 3 che verranno votati dai fan, chissà quando, ancora non si sa, però, a questo punto sono due le ipotesi, o di colpo, tra virgolette, tipo all'episodio numero 40, l'anime si ferma, e, o entrerà un nuovo ciclo di storie, di Nazo 2011, quindi che comprende ragazzi, 60 episodi rimanenti, oppure metterli in corso d'opera, non mi fa presagire un ruolo protagonisti, di questi giocatori, quindi non lo so ragazzi, io sono veramente molto combattuto, scusatemi il gatto che ulula, ma, sono veramente molto combattuto in questa storia, e chissà, anche chi è in realtà, perché vedermi, giocatori che poi mancano senso, ma votati dai fan, boh non lo so, lo capiremo solo vivendo, e questo, è una domanda che faccio a voi, ma ragazzi, ma Mark Evans, come è tornato, in porta, perché io mi ricordo, cioè, non mi sono mai perso un episodio, non mi sono mai perso una scena, ma mi ricordo che Mark era sospeso dal servizio di calciatore, perché ha fatto a botte con quel ragazzo, ma, a questo punto, mi entra in mente una cosa, ma, a questi giocatori, come entrano nella squadra, se era proprio perfetto, a posto di Mark, Axel e Jude, Mark è tornato, vuol dire mica che Axel e Jude, tornano pure loro prima o poi, non lo so, ho questi dubbi, che mi arrivano nella mente, e non capisco come Mark, sia tornato in porta, così di punto in bianco, a meno io, così l'ho vissuta e percepita, può essere che invece l'han detto, e me lo sono perso, ragazzi, questo videocomento è tutto, per me, penso la, uno di, no, non uno, il più bell'episodio, di una domanda di Venonio, secondo me, e questa è la scena, che può far capire, quanto Nozaka sia astuto, quanto Ichi Oshii, sia un po' succube, in questa situazione, e vabbè, anche di quanto Gojin, sia un po' stupiderrimo, ma vabbè, Gojin e Zvalin, sono sempre stati un po' i promotori delle gag, in questa, in questa squadra, però veramente, Nozaka, penso sia il personaggio, più importante al momento, e anche, forse il mio preferito, al momento, perché sa essere, razionale, e non istintivo come Jude, Spero che per questo, grandissimo episodio, vi sia piaciuto, video commento anche, e ci vediamo, la prossima, con il prossimo video commento, ciao ragazzi, See you.